Secondo giorno di sciopero dei camici bianchi, spaccato al fronte della protesta, alcuni medici aprono l'ambulatorio. Provocazione del tribunale del malato sui medici di famiglia, liberalizziamo la professione. Crack BPV, Consob in audizione davanti alla commissione parlamentare, Banca Italia non ci aveva informato. Dopo il nostro servizio sul degrado, Ponte San Michele finalmente è stato pulito dai vetri e sporcizia. Rapina una lucciola e colpisce un agente di polizia permesso di soggiorno, revocato a un profugo violento. Sport, il calcio, Almenti, il Vicenza in superiorità numerica soffre ma raccoglie un punto contro Renate. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione che torna puntuale ogni sera con tante notizie. Un anticipo dai titoli, iniziamo subito con lo sciopero dei medici di famiglia. Il fronte si spacca, qualcuno ha deciso di aprire lo stesso l'ambulatorio perché il servizio ai malati, ai pazienti, che ricordiamo in tutta questa vicenda è la parte debole, bisogna darlo. Ambulatori chiusi, camici bianchi incrociano le braccia, secondo giorno di sciopero per medici di base, pediatri, l'iniziativa si ripeterà anche il prossimo mese fino a maggio. Questa è almeno la prospettiva se non si tornerà a sedersi ad un tavolo di trattativa. Intanto a farne le spese sono i tanti mutuati, anziani e non che magari avevano necessità della prestazione medica di base. Sicuramente crea disagi, sì, per le persone poi che hanno più bisogno, non dico quotidianamente, ma quasi, sì. Alla fine si viene in ospedale a questo punto? Sì, ormai si viene qua. Il medico di base, non trovarlo, significa venire in ospedale? Esatto, per forza, se non c'è il medico di base. Pronto soccorso che è stato potenziato a Vicenza per far fronte ad eventuali richiesti in più e intanto i contribuenti si fanno anche i conti in tasca. Al pronto soccorso c'è da dire una cosa, che faranno pagare un ticket. C'è chi lamenta poi che già è difficile parlare con il proprio medico di famiglia e chi aggiunge? Possono scioperare, però devono avere, come si dice, una conseguenza economica sul loro stipendio pesante e importante. Ma se ci sono medici che hanno chiuso l'ambulatorio, c'è chi non ha aderito allo sciopero trovandosi con la sala d'aspetto piena, come in un poliambulatorio in Via Trieste dove c'è stato un lungo e intenso via vai di gente. Ho chiamato in segreteria e mi hanno risposto, perciò vuol dire che non c'è la sciopero. Ho telefonato prima, mi sono informato se lavorano, ho detto di sì, normale. Io ho fatto anche il vaccino, ecco, e quindi è andata bene. È andata bene, tutto a posto. Poliambulatori aperti dalla mattina alla sera dove si concentrano medici di base e specialisti. Forse il futuro è dietro l'angolo. Lo sapevo perché sono venuto anche ieri e comunque qui penso che si voglia fare dappertutto così e si dovrebbe fare così dappertutto. Allora avete visto, c'è chi ha chiuso lo studio, chi ha deciso di tenere aperto per dare servizio ai cittadini, c'è la provocazione anche del Tribunale del Malato che sui medici di famiglia dice liberalizziamo la professione, sapete quando si parla di liberalizzazione in Italia si alzano ritti i capelli in testa. I medici di famiglia scioperano? Beh, se nel Veneto dell'eccellenza sanitaria protestare è una categoria tanto privilegiata, allora cosa devono fare altri lavoratori molto più bistrattati? Bloccare il paese? Secondo i dati ufficiali un medico di base con un massimale di 1500 pazienti guadagna 5.500 euro netti al mese, ma con indennità e prestazioni inserite nel contratto può arrivare tranquillamente a 11.000 euro. E questo per tenere aperto lo studio 15 ore settimanali, poi ci sono le visite a domicilio, ma qui si ricade nella discrezionalità del singolo medico, che attenzione, non è dipendente di un'azienda sanitaria che impone uno standard nella cura e nell'assistenza. E allora ci permettiamo di lanciare questa proposta. E se i medici di famiglia diventassero dipendenti delle ULS? Certo, dovrebbero lavorare 8 ore al giorno, 40 alla settimana, più eventuali straordinari, ma con stipendi che valgono un quarto di quello che percepiscono oggi. Sì, sì, ma sono d'accordo. Io può anche darsi che questo possa essere un elemento sul quale discutere e non ci sottrarremo alla discussione. Oggi nelle ore dello sciopero dei medici di famiglia ricordiamo che il malato nella sua fragilità deve avere un ruolo centrale e non sempre basta assicurare quella che il freddo gergo burocratico definisce prestazione indispensabile, perché anche questo è un elemento di valutazione arbitrario. Molti pazienti non urgenti, ma ugualmente sofferenti, preoccupati per le proprie condizioni e che sono stati scaricati sui pronto soccorso, dove altri medici lavoravano. E allora rilanciamo un'altra provocazione. Ma perché non pensiamo alla liberalizzazione, piuttosto che alla dipendenza? Ossia, chiunque ha finito di fare il suo corso di medicina e poi si è specializzato oppure ha fatto il corso di due anni per fare il medico di medicina generale, si metta sul mercato e se è bravo i pazienti ci vanno, se non è bravo non ci vanno. E non è una brutta idea questa, andiamo a vedere subito il nostro TG Linea Aperta con l'aiuto della grafica, questa settimana parliamo proprio di sciopero dei medici di base, che ne pensate? Diteci la vostra con una mail a vicenzachiocciola reteveneta.it Fino alla settimana scorsa andava tutto bene, i controlli sono stati fatti, era colpa delle banche. Adesso iniziano a esserci i primi scricchioli tra Consob e Banca Italia. Ossia Consob, l'organo di vigilanza della borsa, ha detto Banca Italia non ci aveva avvisato. Crack Popolari Venete, torna davanti alla Commissione Banca e la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con il direttore generale Angelo Apponi. Chiamate in causa dopo le dichiarazioni rese sempre in Commissione da Banca Italia, oggetto ancora una volta chi doveva vigilare e come si è vigilato sulla vicenda popolari. Consob che parte all'attacco, incalzata anche dalle domande di chiarimento dei senatori e lancia il siluro. Consob non ricevette nessuna informazione da parte di Banca Italia sul prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza al termine dell'ispezione nel 2008. Immediata la reazione delle associazioni di risparmiatori e azionisti. È il gioco delle tre carte, di chi è la colpa vai a trovarla. La realtà è che noi l'abbiamo sempre saputo, che gli organi di controllo non hanno controllato, se no non saremmo arrivati a questa situazione. Se nessuna informazione era arrivata a Consob da Banca Italia sulla gestione, diciamo così, allegra di BPV, su Vanetto Banca, al contrario, l'Istituto di Cripto Centrale non segnalò problemi in vista dell'aumento di capitale del 2013 ed anzi, apponi consultando le carte, ricorda che l'operazione venne definita strumentale e obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca, stava guardando, legge, liquidità e solidità. Sappiamo poi, aggiungiamo noi, come è andata a finire. Il direttore di Consob ha quindi precisato di non avere informazioni da Banca Italia sugli aumenti di Popolare di Vicenza nel 2001, 2008 e 2015, mentre nel 2017 è arrivata una sanzione di BCE su BPV. Continuano le audizioni, ma le associazioni di azionisti risparmiatori attaccano anche la Commissione REA di aver secretato i nomi dei grandi debitori. Ci sono probabilmente dei nomi delle situazioni che è meglio che la gente non sappia. Intanto oggi le associazioni puntano l'approvazione in commissione bilancio dell'emendamento alla legge finanziaria. Noi chiediamo allo Stato che faccia solo un anticipo di cassa. TAV, alta velocità, l'argomento è entrato di prepotenza al centro del dibattito per le primarie nel centro-sinistra. Sentiamo Possamai. TAV, nome in codice di una partita che a Vicenza vale 805 milioni di euro in sei anni. Un'opportunità per la città, ma anche un grande impegno per chi raccoglierà l'eredità di Achille Variati sulla poltrona di sindaco di Vicenza. Saranno sei anni di cantieri, sei anni di cantieri importanti, pesanti per la città. Quindi uno dei grandi compiti, una delle grandi sfide che avrà il prossimo sindaco sarà quella di gestire una città in mutamento e in cambiamento. Perché è vero che arriveranno nuove opere importanti, strade, il filobus, però è anche vero che sarà un impatto forte per la città. Dai cittadini era arrivata una spinta forte per non spostare la stazione di Via Roma, che infatti resterà esattamente dove è. A questo punto la partita, da giocare con lungimiranza, sarà quella di rendere sopportabile in tutti i quartieri il peso dei cantieri. Ci saranno per esempio strade nuove che libereranno dal traffico i quartieri, specialmente ai ferrovieri e a San Pio X. Però ci saranno anche sacrifici, sacrifici per i cantieri, perché vorrei dire avere la città intasata e probabilmente bloccata per anni. Sacrifici perché comunque ci saranno cittadini che si troveranno ad avere le barriere antirumore vicino a casa e quindi sarà un cambiamento forte. Però è anche vero che è un'occasione di sviluppo per la città, 150 milioni di euro di opere pubbliche. Se pensate che ogni anno noi investiamo 6 milioni di euro, fate il conto e provate a pensare che cosa vuol dire come impatto sulla città. Adesso parliamo della vertenza allovato. Nelle scorse ore incontro al Mise per parlare proprio della chiusura di questa ditta. In giornata i sindacati hanno incontrato i lavoratori per parlare delle prossime mosse. È finito il turno di lavoro. I dipendenti dell'allovato gas di strada casale si ritrovano tutti in una sala concessa dal parroco a qualche decina di metri poco lontano dall'azienda. Ieri c'è stato l'importante incontro al Mise chiesto dai sindacati per cercare di trovare un tavolo di trattativa più ampio. Oggi si ritrovano per discutere l'esito della riunione romana. Il Mise ha chiesto un qualcosa che noi chiedevamo da tempo. C'è una discussione di gruppo. L'azienda sta tenendo separate le vicende di Vicenza e di Reggio Emilia. La partita è dunque aperta e con il governo che vuole fare la sua parte guardando all'intero settore. L'allovato ha delle manifestazioni di interesse che stanno emergendo in queste ore da parte di altre aziende. Ciò significa che è un'azienda che va bene, che ha sicuramente delle difficoltà come tutto il gruppo, ma come tutto il settore. Per questo il governo è in campo. L'unica a rimanere sulle sue posizioni è la proprietà che non ha mostrato intenzione di ritirare la procedura di mobilità per i 67 lavoratori dell'allovato. Per la prossima settimana è previsto un nuovo incontro e il sindacato lancia una richiesta, convinto che... È più una vicenda finanziaria che una vicenda di produzione industriale. Da questo punto di vista noi chiediamo anche al Mise che siano presenti anche le banche in questa vertenza, perché se sono le banche il problema, devono esserci anche loro. Ponte San Michele, dopo i nostri servizi, finalmente è stato ripulito. Ponte San Michele, era il 6 novembre quando i nostri telespettatori ci hanno invitato a intervenire contro il degrado e gli atti vandalici che deturpavano questo gioiello storico e architettonico. Qualcuno ci aveva anche inviato questo video che mostra dei giovani che banchettano e usano il ponte come una latrina. Noi avevamo documentato tutto, dato voce ai cittadini indignati, chiesto conto all'assessore alla sicurezza e finalmente oggi, dopo tre giorni in cui abbiamo ripetutamente invocato un intervento, la sporcizia e i pericolosi cocci di bottiglia sono stati ripuliti. Ci fa piacere che il nostro servizio sia servito, hanno pulito, ma noi ovviamente ripasseremo, controlleremo la situazione, se troveremo ancora sporcizie e degrado lo denunceremo e chiederemo conto alle autorità competenti perché Ponte San Michele è un monumento di Vicenza e come tale va rispettato. La cronaca adesso con un marocchino che aveva fatto una rapina alcuni anni fa e girondolava tranquillamente per la città. Marocchino quarantenne si aggirava tranquillamente per Vicenza senza documenti in tasca e una condanna pendente sulla testa per rapina aggravata a un anno, 11 mesi e 27 giorni, più una multa di 400 euro. Sfortunatamente per lui l'attenzione degli agenti ad una volante di passaggio in piazza 20 Settembre lo individua e lo riconosce. A seguito del controllo gli agenti appurano la pendenza e a questa volta per il nord africano scattano le manette e l'accompagnamento al carcere San Pio X. Era in Italia per motivi umanitari, però era violento e allora il permesso di soggiorno gli è stato revocato. Anche i profughi devono rispettare le regole, come tutti i cittadini. Ci fa piacere rilanciare questo messaggio che parte dalla questura di Vicenza che ha revocato un permesso di soggiorno per motivi umanitari a un richiedente asilo che qualche mese fa è stato arrestato in Viale San Lazzaro dopo aver tentato di rapinare una prostituta e aver colpito a testate un poliziotto intervenuto per arrestarlo. Ora però che fine farà senza permesso? Resterà a gravitare in Italia come tutti i migranti senza diritto di asilo? Sciopero nazionale dei trasporti, potrebbero esserci dei disagi anche per quanto riguarda la città di Vicenza. Attenti allo sciopero generale. Dalla scuola ai trasporti domani si annuncia una giornata di passione. La SVT, Società Vicentina di Trasporti, comunica che potranno esserci dei disagi. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea solo durante le fasce orarie, dalle 5.20 alle 8.29 e dalle 12 alle 14.49. Il servizio serale di chiamato urbano di Vicenza è garantito regolarmente dalle 8.30 di sera. Andiamo avanti, parliamo di sport, di calcio con il Vicenza che non va oltre l'1-1 con il Renate. Un Vicenza che intasca un magro punto pareggiando contro le Renate in inferiorità numerica dal 37esimo del primo tempo. Squadra in difficoltà nella prima parte di gara, antecedente all'espulsione di Ungaro per un fallo al limite del karate, con un gioco lento e scarso di idee lasciando troppo spazio agli avversari che hanno punito l'Ane al dodicesimo con un gol di Lunetta. Nonostante la superiorità numerica e il dominio del campo, la squadra non è riuscita a finalizzare fino al 33esimo del secondo tempo con un gol di Comi, sesto da inizio campionato, su sponda di Ferrari. La partita si chiude sull'1-1 senza grandi capacità e fortune per i padroni di casa. Speriamo che questo periodo no, insomma, venga superato presto dagli uomini biancorossi. Siamo in chiusura, questa sera a 21.15 torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli in studio, i Veneti schiacciati dalla crisi. Vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione, per essere stati in compagnia di TG Vicenza e vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre su Rete Veneta. A presto! Le previsioni per domani Cero in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso Precipitazioni assenti Temperature in calo sulla pianura di notte, in moderato aumento di giorno Sui monti stazionarie, eccetto calo dei valori notturni nelle valli A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti